Nuovo trend dei rapper italiani, dopo imitare la gangsta life e parlare di cose in cui non sono mai passate attraverso Adesso c'è questa cosa di farlo con l'amore, per cui tutti fanno questi pezzi d'amore Il singolo per eccellenza hip hop è un pezzo d'amore BASTA DAL BASEMENT BASEMENT Tantissimo, è una di quelle persone con cui oltre ad ascoltare la sua musica ci vorresti anche chiacchierare Marrakesh è passato dal BASEMENT Ciao a tutti Ti torna questa cosa che le persone con te ci vogliono anche chiacchierare e non solo ascoltare la musica che ovviamente è il tuo mestiere Sì mi torna, me lo chiedono spesso Secondo tutte le persone del mondo con chi vorresti Tanti uomini anche invece di dire magari che non so una donna o qualcosa dicono Marrakesh Sì vedono una specie di saggezza per cui vorrebbero Assorbirla Vorrebbero esatto confessarmi i loro dubbi esistenziali Sì Poi in realtà a me non piace così tanto No, nel senso è una cosa che faccio appunto, è catartico farlo nelle canzoni Chiaro Ma non Poi alimenteresti altri dubbi a volte Direi proprio di sì Ecco, non sono in grado poi di aiutare veramente la gente se non con quello che faccio con la canzone Come stai in questo momento? Molto impegnato Molto stressato Avevo detto a dicembre in tutte le interviste che mi sarei preso del tempo per me Non l'ho fatto assolutamente Però bene, molto bene Ma fare queste cose non è anche prenderti del tempo per te? Nel senso Fare cose tipo il Marageddon, tipo un festival incredibile Non è anche fare cose per te? No È una roba Lavoro È lavoro? Sì Ok Bello, il lavoro che ti piace, il lavoro che ti stimola, il lavoro che ti coinvolge, ma è lavoro E quando invece dici Il tempo per te è proprio invece eliminare il lavoro Cioè Ok Che è una cosa che non faccio ormai da qualche anno Nel senso fermarsi proprio Non avere impegni lavorativi Potete dedicare a altri aspetti Io per esempio non so Faccio anche fatica proprio tipo ad arredare lo studio Ok Capisci? Sono dentro una ruota del criceto proprio Che continuo a inseguire cose Ok capisco È un po' Milano no forse Sì Tutto sembra così irrinunciabile Hai presente? Sì Certo Entrano dei lavori e pensi sempre Vabbè non posso non farlo Purtroppo tocchi dei tasti Non posso non prenderlo Non posso Dei tasti dolenti Che tante volte ti sei più Almeno io ogni tanto ho la sensazione di essere schiavo di me stesso Cioè dici sì sono libero perché faccio quello che voglio Quello che mi piace E poi alla fine a volte dici Liberi liberi ma liberi da che cosa? Diceva 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 No io ho citato già il Marrageddon che insomma credo che sia il tuo prossimo grande impegno Nel senso che poi chiede veramente Credo che tu abbia già vinto il titolo come miglior nome per un festival Grazie Cioè perché cazzo guarda che Marrageddon è geniale Grazie Viene da una canzone Sì sì però poi farci veramente il festival che si chiama Marrageddon Diventa una roba Cioè è proprio la vita che i puntini della vita È stata la prima idea? Cioè facciamo un testo Ho pensato qualche giorno poi quando mi è venuta quella era È stata subito quella Presa Sì è piaciuto anche subito Chiaro E quindi quei nomi anche un po' così forti che fanno anche un po' il giro No? Però sicuramente non ti lascio nienti differenti No è potente rendere l'idea di qualcosa di molto particolare che sta per succedere Quando hai avuto la prima idea di dire perché non facciamo il next level Proviamo a fare un festival Ciò ho pensato alla fine del tour Che era andato incredibilmente bene Che è stato anche un po' L'inaugurazione di questa nuova stagione di concerti un po' per tutti Perché poi Il fenomeno live è un po' esploso Adesso vedo che c'è un sacco di gente che fa il forum Anche artisti un po' più piccoli È molto più facile È molto più accessibile E probabilmente c'è anche un pubblico che ha una fortissima voglia Dal post-covid Di andare a vedere i concerti Per cui Ecco Il mio forse è stato il primo concerto che ha creato questo buzz E quindi finita questa cosa Dove venivamo veramente da un sacco di paganti Di date sold out Così abbiamo pensato cosa fare L'anno dopo Per non replicarci E quindi mi è venuta in mente che effettivamente un festival urban hip hop in Italia Non c'è proprio dai tempi di hip hop village e di radio DJ Cioè parliamo di decadi E che quindi E tra l'altro era anche secondo me il momento giusto per celebrare Tutto quello che è successo in questi anni nell'hip hop in Italia E secondo me si meritava Ecco uno spazio così grande Così tante persone Anche per colmare il gap con altri generi Che storicamente Sono più da quella situazione Ma secondo me non è così No anzi ormai A parte i numeri Ma è proprio il sentimento Di quando vai in giro Di quando senti qualcuno che sta ascoltando qualcosa Capisci che quella roba lì c'è Anzi sta spaccando Come scegli le persone da tirare dentro un festival? Ma beh Abbastanza facile A parte che comincia ad esserci Un bel bacino da cui pescare E poi ho cercato di prendere gli artisti più significativi Con cui avevo delle cose in comune E poi sai anche ad adeguarsi Quando fai una cosa del genere Devi anche azzeccare il momento L'artista che non ha il tour in quella stessa città In quel momento Per cui poi c'è una parte di politica Diciamo Politics E una parte appunto più creativa Basata su quelle che sono i miei gusti Ok Sì sicuramente Poi ci sono altri artisti che dobbiamo ancora annunciare Avremo un altro drop Ok Abbastanza breve Ok Anche perché sono due date giusto? Due date Milano e Napoli Milano e Napoli E soprattutto per il rap Erano le due scene forse più grosse E più forti Assieme anche a Roma E altre città Però Secondo me Napoli ha quella marcia in più In più l'idea era anche quella di avere un nord E un sud Eh bravo Diciamo anche geograficamente Hanno un senso per poi essere raggiunte Da tutti quelli che poi sono Esattamente Che poi sono vicini E come ci si prepara? Cioè tu come ti prepari a un evento di questo genere? Eh Beh In tanti modi Nel senso a me aspetta anche tutta la direzione creativa e artistica Per cui si tratta di preparare le performance Di coordinare le performance degli altri Di creare uno show che comunque dura dal pomeriggio Perché è proprio un festival Quindi Inizia il pomeriggio e dura fino alla sera C'è un sacco di lavoro E questo per quanto riguarda la mera organizzazione Io personalmente Nel solito modo Nel senso faccio preparazione atletica Insomma Ripasso le canzoni Faccio le prove La preparazione atletica mi sta tornando spesso Nel senso che diversi tuoi colleghi O comunque artisti Cioè comunque Cioè per stare sul palco Per fare quel tipo anche di vita Di live eccetera Devi avere una preparazione fisica Guarda Il tour scorso avevo completamente sottovalutato questo aspetto L'ho fatto Mi sono allenato Ma diciamo che mi sono allenato Forse più esteticamente Capisci? Prepararsi è un'altra cosa C'è tutto un lavoro che è simile a quello di uno sportivo Quindi devi fare del cardio Devi avere del tuo corpo elastico Io faccio tante cose Sì adesso Tra l'altro è una roba Che in momenti in cui lavori veramente Hai un lavoro così esasperato E sei pieno di impegni Proprio ti fa bene Come alla testa Ritagliarti anche Quei momenti Per cui Per cui appunto ti dicevo Il tour scorso un po' sottovalutato Mi sono trovato Le prime date del forum Che ho detto Ma no ma è impossibile Non ce la farò mai Poi avevo una performance Veramente molto spinta Sto sul palco due ore Due ore e mezza Faccio tuttora solo Non ho doppi E salto Canto Grido È veramente Secondo me più di una Tu segui lo sport Ma più di una preta di calcio Sì sì No no immagini Perché sei l'assoluto protagonista Devi anche cantare Devi anche cantare Poi non hai quei momenti In cui la palla è lontana E tu cammini E puoi rifiatare Facendo correre gli altri Quindi La terza data Ho detto Cazzo Cioè qui morirò In più avevo delle scarpe Avevo i piedi distrutti Delle scarpe Insomma Tutta una serie di cose Che quest'anno Voglio evitare Con largo anticipo Quindi Vai in ritiro Come fanno i giocatori D'estate Quindi ho iniziato presto Adesso mancano quattro mesi Quindi Ci sta Ci sta Insomma Fa parte poi Della preparazione E in questo periodo Nel periodo In cui tu ti prepari Anche a fare una cosa Di questo genere Comunque Il resto Va avanti Cioè la scrittura O La preparazione Di altre cose Allora Non la scrittura Di un album Perché per me Quello è sempre una cosa Totalizzante Cioè quando scrivo un disco Non faccio altro Non penso ad altro Non faccio altro E tutta la mia giornata Cioè da quando mi sveglio Quando vado a letto Faccio solo quello E quindi no Quell'aspetto lì no Ma è anche congelato Volutamente E quindi Però in realtà Si sto ascrivendo Faccio feature In collaborazioni Pezzi un po' Sciolti E cose Che comunque Procedono Quella roba lì Comunque La tua figura In questo momento Soprattutto negli ultimi anni È come se avesse assunto Come diciamo anche prima Insomma Nel discorso della chiacchierata Eccetera Uno status Tanto citando Anche Un tuo lavoro E cioè Tu ti sei accorto Di questa cosa E quando Cioè nel senso A un certo punto È come Lo ha detto anche Gue Quando è venuto proprio qua Cioè Diceva Marra è l'unico Che Ha assunto Quello status Per dire certe cose Per fare quel certo Tipo di Certo tipo di percepito Anche Su gente Che magari non ascolta Normalmente Il rap Tu ti sei accorto Di questa cosa E secondo te Questa cosa Quando è successa Allora Un certo status Io lo avevo già Ed era forse Più di nicchia Nel senso che Nel senso che Mi ricordo Già quando è uscito Status Appunto Il disco Era stato molto Incensato Da una critica Insomma Aveva già Quel fattore Extra Genere Per cui attirava Quello che Quello che è successo Adesso È che Questo 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 status Esatto Si è nazional Popolarizzato Per cui è diventato Nazionale Ma di solito Quando succede Questa cosa Perdi Invece Quell'altro tipo Quella lì Esatto Invece nel tuo caso Anzi è aumentato Sì Si è diffuso Esatto È arrivato Anche al grande pubblico Questa cosa Che prima invece Era un po' Pannaggio Di pochi È successo Con Persona Quindi Il mio penultimo Album E Sì me ne sono accorto Sì c'è stato No però Te ne accorgi a volte Anche quando magari Inizio a ricevere I complimenti Di qualcuno Che dici Che questo qua Mi dicesse Una roba del genere Non me l'aspettavo Che qualcuno Che non ti aspettavi Ha iniziato appunto A Tantissimi Ma Beh sono successe Tutte una serie di cose Che non mi aspettavo Dai meri numeri Gargantueschi Sì Appunto Come dici te Registi Attori Gente dello spettacolo Ecco sì È partita la nave È partita la nave Esatto Basta Non è così rilevante No sì è figo però Non ti ha Non ti ha spostato Da quelle che sono Le tue No allora È bello Allora è bello Che ti si aprano Per me la vita Tende sempre un po' A essere noiosa Per cui O apri delle nuove porte Come nei videogiochi Che sposti qua E vai a un A livello dopo Per cui Entri in posti Dove non potevi entrare Fai delle cose Che prima non potevi fare Vedi delle cose Che prima non vedevi E allora è interessante Quello Quell'aspetto lì è interessante Cioè io credo che se Persona non mi avesse Portato In un posto nuovo Dove non ero mai stato prima Dopo un posto Uno si rompe A rimanere sempre lì Quindi sono contento Che si sia aperto Questo capitolo Della mia vita Ed è sicuramente Uno stimolo Ad aprirne altri È bello Perché guarda La mia carriera è stata In un grafico È proprio Crescendo Sì che penso Che poi sia Il miglior modo Perché sai Puoi avere un debutto Devastante Da giovanissimo E poi avere tutto In discesa Non è succede Penso che sia devastante Psicologicamente No Mentre invece Il mio build up Ha fatto sì Che invece Ti facessi le spalle larghe Assimilassi anche Il successo Un po' alla volta Questa pillola velenosa E tutti i vari Anche trappole Che ci sono Nel percorso Che comunque impari A vedere Passo per passo Sì è come se poi Quando arriva Un certo momento Tu hai accumulato Talmente tanto Anche a livello di esperienza Da restare Sì che si scrive Una sciacquetta Ti dice Sei un grande Non ti conoscevo Non ti interessa Non ti fa niente Sai distinguere Capito No vabbè Questa è una roba importante Ed è anche come se fosse Anche un po' Un segnale Tra virgolette Di speranza Per chi vuole intraprendere Questo tipo di percorso Oggi Che sembra impossibile Perché oggi sembra Che o parti con un botto assurdo O quasi un fallimento Capito Sì poi secondo me La cosa più Particolare oggi È che La soglia Degli intrattenitori Rispetto ai veri artisti Si è alzata parecchio Nel senso Ma non lo dico come una critica Però Oggi come oggi Appunto L'intrattenimento È sovrano C'è un ricambio incredibile E C'è anche Una bella fetta Di musica Che non è veramente musica Più Meme Cioè nel senso C'è tutta una serie Di roba che esce Che in realtà È proprio Intrattenimento puro Che ti ripeto Non è un male Ci sta Ma È proprio cambiato Cioè è molto diverso Quindi Però quando è così Non può succedere Quello che hai detto tu prima Secondo me Cioè nel senso È proprio un altro percorso Secondo me Oggi come oggi Ci sono molti percorsi Ci sono artisti Che fanno i testimonial Francamente Cioè La loro entrata principale Viene dai brand Ci sono artisti Che non vendono tanti dischi Ma fanno un sacco di concerti Ci sono artisti Che invece Vendono tanti dischi Ma nessuno va a vederli Capisci? Esistono Tanti campionati Tanti campionati Bravissimo Per cui E molti sono extra musicali Cioè La musica può essere Il modo in cui tu Influencer Capitalizzi Ok E porti a casa dei soldi Ma non sei un veramente Un musicista Sei un intrattenitore E quello ci sta No anche perché Poi fare L'artista O comunque Quello che dicevamo prima Richiede dei tempi Dei tempi che peraltro Tu ti prendi Nel senso Oggi Dovresti fare Tendenzialmente Uscire una canzone Ogni giorno Adesso io Esaspero Però più o meno È un po' Quello che Che succede Invece magari Per fare un album Ti prendi del tempo Oppure fai un album Come iutti Ma anche dei tempi Che ti dico Per esempio Io sono Sono autore La gente non è che Bada molto a sta roba Ma comunque Le canzoni bisogna scriverle C'è uguale tempo Vi va a fare le basi Così se una persona Va a tutte le sfilate di moda È tutti i giorni A fare dei post E così Evidentemente fa altro Capisci? Ma che ti ripeto Non lo dico Non dico questa cosa No Sono due cose diverse È che oggi È proprio molto mischiata Secondo me È difficile distinguere poi Chi fa cosa Chiaro Però sul lungo periodo Poi questa cosa Diventa evidente Diventa evidente Sì 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 Poi è vero Poi dopo un po' Il percorso Si fa sempre un po' Più Definito Cioè se duri abbastanza Da avercelo Questo percorso O diventa qualcosa Di più chiaro Se no in effetti No se no poi sposti troppo L'attenzione al discorso Della musica Cioè ad esempio anche tu Quando lavori su un album Anche gli ultimi Sono l'esempio C'è un senso C'è un motivo Per cui quella canzone Hai la uno C'è un motivo C'è una parte del corpo Come nel caso tu Che gli hai dedicato Eccetera Secondo te È sicuramente un valore Ma È una cosa che fai Controtendenza O è una cosa Che secondo te Invece funziona Proprio per questo Cioè il fatto di Non dico di fare un concept Però di avere Una cosa che ho fatto Che non sapevi Come poteva andare Nel senso Sicuramente era in Controtendenza Quando l'ho fatto E Non rispondeva Ai canoni Di quello che Poi è Una cosa di successo Però io sono Profondamente convinto Che se uno Voglia avere un vero successo Quei canoni Devi romperli Cioè se no puoi Comunque stare a galla Adeguarti Ripetere dei cliché Che è quello che fa La maggior parte della gente Però poi La roba che lascia il segno Che rimane O che comunque Cambia le carte in tavola E anche Soprattutto in una carriera lunga Ti permette di rimanere E di essere rilevante Perché sai Essere rilevante Vuol dire che tu fai Fai un concerto E canti pezzi Dell'ultimo disco Non Le tue hit Del cavallo di battaglia Di dieci anni fa Quello è Che tu hai una carriera Ok Ma rilevante Che la tua musica È rilevante oggi Quella che fai oggi Questo non è sempre scontato Ed è una cosa Che comporta Del rischio Capisci? Cioè se fai un disco Non è mai garantito E soprattutto se vuoi Quel tipo di riconoscimento Te la devi giocare È totale Anche perché Non è facile Come dici tu Forse questo poi diventa Tra tutti i campionati Credo che sia anche Quello più difficile Ma quello che poi In qualche modo Ha un valore Il campionato più difficile È quello di rimanere Perché Quello che vedo io È che Molti artisti Non reggono Non reggono neanche successo Quindi Figuriamoci fallimenti Capisci? Quello che ho notato Che facendo questo mestiere Da tanto Devi essere granitico Nel far fronte A tutto quello Che comporta Una carriera come questa Che è fatta di stop Di momenti in cui Passi in sordina C'è qualcuno Di nuovo Di momenti in cui Invece hai un hype Incredibile Perché sei la novità Ma quella roba Non può durare Tradimenti Collaboratori Delusioni Cioè È molto Psicologicamente Un rollercoaster E ti ripeto Fare durare questa cosa E farla bene Per 15 anni 20 anni È il vero goal Con diventarci matto dentro Perché hai fatto troppo successo Perché ne hai fatto troppo poco Insomma E tu ti ricordi quel momento In cui tu eri la novità? Sì ormai è molto lontano Però è molto chiaro Io personalmente Me lo ricordo Me lo ricordo Me lo ricordo Me lo ricordo benissimo Pensa Io ricordo La prima volta C'era In 22 marzo C'era il Rolling Stone C'era il Rolling Stone Che adesso non c'è più C'era questa serata O il giovedì O il mercoledì E io ricordo benissimo Che ti presentarono Forse una delle prime volte E tu facevi Avevi cantato Forse era Cercasi Killer Popolare Popolare Ed era forse Una delle prime volte Ora mi ricordo Forse era quella data lì Io ai tempi Suonavo con Vincenzo Davian Fossi Sì E praticamente Facevamo questo siparietto In cui a un certo punto Mentre cantavamo Entravano tipo degli swat C'erano rumori Dell'elicottero E ci arrestavano Poi anni e anni E anni dopo Ho rivisto sta roba in pacchi Ho detto Guarda pensate Avete l'influenza Sono sempre Giustamente La fantasia Di un ragazzo Di quartiere È quello Sì Quello che vuole mettere in scena È quello Giustamente E questa Lo facevate proprio Nelle prime volte Nelle primissime Sì Mi ricordo Forse non usavamo Neanche beat originali Usavamo ancora Strumentali americane Per farti capire Il livello di vintage Vabbè Quelle sicuramente Sono state appunto Le prime volte Però era ancora Il periodo Forse più Diciamo underground Sì Ma era comunque Ma perché era proprio Il genere Ancora in quel periodo Sì Ma credo sia stato Badabunciacia Che ti ha Sì Badabunciacia È quella che mi ha fatto fare La mia prima hit Che mi ha messo Sulla mappa Sì Situazioni in cui c'era Queste radio date In cui c'erano appunto Non so Zucchero Questi artisti giganteschi Che io Fino al giorno prima Avevo visto solo in tv Capisci Ok Avevo conosciuto Un stacco di Era bello Bello È quella cosa Che ti dicevo prima Del fattore novità Era tutto totalmente Nuovo E galvanizzante E come vedevano te Tu riuscivi a capirlo Male Male Avevo anche litigato Con vari di questi Perché Non lo capivano Poi sai Eravamo un po' Quelli che venivano Eravamo i nuovi I nuovi arrivati Questa cosa del rap Non si capiva C'era una bella resistenza Da parte di tutti Sia dai miei di media Degli altri artisti È stata una Una bella cavalcata Arrivare fino a qui E il fattore poi Cos'è stato Il pubblico Che comunque A un certo punto Comunque questa cosa La voleva L'ascoltava Il pubblico Che esatto Guarda L'hip hop in Italia Ha fatto veramente Una rivoluzione E ti parlo di rivoluzione Perché Si parla di rivoluzione Solo quando Si parte dal basso E cazzo L'hip hop Veramente È stata una roba Di consenso popolare Di pubblico Che è cresciuto Negli anni E con la forza Dei numeri Ha scardinato Proprio dei veti Non so Noi in radio Eravamo proprio banditi Non c'era niente da fare Potevi avere il pezzo Più forte del mondo Ma non ti avrebbero Comunque passato Non saresti mai andato Per te ti vado a punciacciare Una di tormentone estivi Arriva a massimo A 40 Impensabile Passaggi radiofonici Alla quarantesima posizione Sì In termini di dischi Di singoli Poi Spotify Quest'era dei numeri Dove i numeri Sono talmente Spiattellati lì Che non puoi più Capito E quindi Si è colmato Questa cosa Che poi C'è stato un momento In cui eravamo Super popolari E ti parlo Dei Dogo Di Fibra Di me Tanti anni fa Ma non vendevamo Gli album Perché c'era Questa terra di mezzo Di questo streaming Illegale Che era La pirateria E insomma Io ricordo L'hip hop motel Si chiamava Un evento Che era stato fatto Qua a Milano È stata una delle prime cose Dove A modi piccolo festival All'interno Di un unico palazzetto E c'era comunque Un sacco di gente Che però Per ascoltare La vostra musica Io ero tra quelli Doveva fare Questi passaggi Qui Cioè non è che Era comunque Una cosa Ed è forse Per questo Che poi In quel periodo La si sentiva Proprio Una cosa Pro Cioè La mia musica Perché me la sono cercata Perché me la sono Non l'ho trovata In giro E poi però Nel senso Anche poi Crescendo In molti di voi C'è stato il senso Di orgoglio Quando poi è arrivato Diciamo Il grande pubblico No Tu questa cosa L'avvertivi? O invece Avvertito subito Quella classica Cosa che succede Quando uno Tipo Chi sono questi? Eh Mi piace la musica Che sta nel suo tempo Che racconta Il suo tempo Che parla Dalla gente comune Perché io vengo Dalla gente comune Non ho mai Desiderato Che la mia musica Restasse Per pochi Fosse una fighetteria Per hipster Ecco Quindi no Io ho sempre Ho cercato di avere Un'attitudine popolare Fin dai primissimi I miei lavori Quindi no Per me Quando poi Questa cosa è riuscita Super orgoglio Cioè come è stato Portare un elefante Un barone È stato bello Erano due Faceva ridere Sì sì C'era Si sono creati Tutti quegli Quegli episodi Tipo L'elefante Che mangia la pianta Gente che si affaccia Che urla È stato Lì di chi è stata l'idea? Mia sai Eh sì E ti hanno detto Ok va bene Ok va bene Ci sta Dai due Avevo questa idea Di tornare nel quartiere Tipo Annibale Con gli elefanti E mi hanno detto Sì va bene Cazzo Incredibile Guarda lì ero stato fortunato Perché era arrivato Il mega presidente Di Universal Dalla Francia E aveva detto Non è possibile Che l'hip hop Non vada in Italia Ah sì È l'unico paese D'Europa In cui non sta succedendo niente E mi ricordo Che aveva detto Listen to the boy Ascoltate quello Che vi dice lui E quindi mi hanno ascoltato E l'abbiamo fatto Ed è stata Direi una buona scelta Cioè quella roba Lì è diventata Super iconica Sì poi pensa Che era anche Un momento In cui il videoclip Tu pensavi Di mandarlo a NTV YouTube era proprio Fuori dai radar E mi ricordo Che qualche anno No qualche mese dopo Guarda Ci distero Guarda il video Un sacco di views Su YouTube Tipo 3 milioni Che era Fantascienza Però Non era un dato Ecco No era solo Guarda sta succedendo Questa cosa Sì non era una cosa Che guardavi Adesso invece lo fai Per YouTube Adesso lo fai Escrivete Non c'è un altro Sbocco Una TV Non è che mandi Un video in TV Tra l'altro il tuo rapporto Con i social Insomma negli anni Ho sempre osservato Poi chiaramente Ci sono magari Nella quotidianità O delle foto Dei momenti Però magari Con una breve caption Eccetera Invece poi ogni tanto Ci metti giù Un pensiero Una roba Ed è molto forte E uno dei più Che mi è rimasto Più impresso È stato sicuramente Quello legato al concerto Che avresti dovuto fare Che poi non hai Che non hai fatto Durante il periodo Della pandemia Come è stato Per te Ovviamente è stato Un momento Chiaramente Di difficoltà generale Eccetera Però Quando Uno ha scommesso Tutta la sua vita Su una cosa Quella cosa stava Per succedere Tu non sai bene Che cosa succederà Poi per carità Le cose Adesso stiamo parlando Di un festival Fighissimo Quindi Però quel periodo Lì come Cosa vuoi che ti dica Un dramma Totale Sono quelle cose Che pensi Cazzo Vabbè Allora c'è proprio Qualcosa contro di me No? Perché poi ovviamente Non è così Perché guardava tutti Però ognuno egoisticamente Pensa Non è possibile Che adesso A un mese Dalla partenza Del mio tour Della vita Con tutti questi sold out Devo rimanere a casa E invece è proprio così Però Come hai detto tu Poi alla fine Poi è stato pazzesco Perché il tuo caso È che poi ci hai fatto Hai fatto un tempo A fare un altro album Che è stato più forte Di quello che sembrava Imbattibile Sì 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 È vero Infatti guarda Cos'anno di poi Per me Ecco Quella roba Del disegno divino Per non farmi suonare Però adesso La interpreto positivamente Perché mi ha fatto fare Un altro album Il tour poi È stato gigante E Non ha Soprattutto Ho avuto Anche La fortuna Che comunque Il pubblico Al termine di questa roba Non avesse Disdette Cioè Sai Molti hanno sofferto Molti avevano i concerti Prima della pandemia Poi avevano i live Mezzi vuoti Perché poi La gente aveva comprato I biglietti Due anni prima Invece noi Non abbiamo quasi Perso pubblico Quindi Questo fa parte Di tutto il discorso Che hai detto prima Nel senso Fa tutto parte Di quella Di quella curva Anche perché Poi molti magari Non so Se è un fattore Anche anagrafico In due anni Ci sono delle fasce L'età che cambia la vita Completamente Sì 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 E ci sono anche Quei tipi di successi Che in due anni Sono già Dimenticati Sono già Passati Nel tuo caso È successo Di tutto Di più In positivo Quindi sta roba è Come è stato vincere Un premio Cioè un premio Dedicato Un premio che ti eri Quasi profeticamente Inserito all'interno Di una canzone E poi vincerlo Davvero Il tenco Il tenco Per la Cioè che quello è proprio Per la scrittura Che è proprio Per una cosa A cui tu tieni Ecco quanto è importante Ancora scrivere qualcosa Che abbia un senso Ma sembrava di no Esatto Perché in un mondo In cui ti fa credere Tra virgolette Che Contano altre cose Invece Soffermarsi su quella cosa lì Con tutto quello che richiede Ma poi guarda Anche vedendola Cioè sì In un mondo Che poi è così vuoto A volte È così superficiale Però paradossalmente Vai a riempire Anche una Un Vai a colmare Un bisogno Che invece c'è Che è grosso E che evidentemente Ti ripeto Noi prima di persona Non sapevamo Pensavo Magari sta roba è troppo Presa male Non so Troppo deep Per come la gente adesso Si fruisce la musica E invece Ecco Il disco Cioè non è che è andato bene È tipo uno dei dischi Più venduti Della storia del genere Per cui evidentemente Invece c'era La gran voglia Di un contenuto E quindi A me questo ha dato voglia Ha fatto anche capire Che esiste Una Una grande Fetta di pubblico Che è magari più silenziosa Di quella Cacciarona Che vedi nei commenti Che ti fa veramente Dubitare Del futuro Dell'umanità E che però invece c'è E che poi è interessata Poi guarda L'ho visto anche In tante altre cose Nel cinema Anche nei videogame Poi in realtà È un momento In cui secondo me A seguito di tutto Quel vuoto lì C'è voglia Di Di una roba più profonda No Sì Io banalmente Mi sono stupito Anche un po' Con queste chiacchierate Che stiamo facendo Siamo qui a parlare Anche di tematiche Abbastanza profonde Però le persone Hanno voglia di ascoltarlo Io vedo Cioè insomma È strano Perché Allora parallelamente Tu guardi Su TikTok Ci sono a volte Delle tendenze Cioè delle cose Che sono Che non capisci Che cosa Perché Capito Che è talmente Stupida Il trend Ti faccio un esempio Ultimamente Era andata in trend Una foto di Miegue Ma proprio Dove lui è un po' dietro Io sono un po' avanti E tutti su TikTok Si fanno la foto Rifacendo la posa Non so È una roba Sì Ecco però A fianco A questa roba C'è Come si chiama Il professore di storia Sì Barbero Ecco Ecco Per dirti C'è una dicotomia C'è un trend Sulla storia C'è un trend Incredibilmente Ti direi stupidi Ma più che altro Completamente disimpegnati Intanto si affianca Appunto Episodio come questo Dove invece La gente interessa Puoi andare In profondità Nelle cose Quindi secondo me Passano anche convivere Ecco forse È proprio un momento Di contraddizione Sì ci sono tante nicchie Che però stanno Venendo fuori E che adesso Hanno anche sfoghi Diciamo Da quel punto di vista Il tuo rapporto Con i social Al dia di quello Che dicevo prima Cioè tu i commenti Li vai a leggere Quando ti scrive qualcuno Ci sono momenti Che leggo Esatto Quando non ho niente Da fare E momenti in cui Non me ne frego Completamente Ok Senti volevo chiederti Mai Non l'ho mai capita Sta roba E un'altra cosa Vedi E te sei invece Lo sport Che mi piace Ma l'essere fan La tifoseria Bravo Non l'ho mai capita Ne una La tifoseria Quella di un certo tipo Neanche io E tuttora Però l'appassionamento Cioè l'essere appassionato E uno sport E quindi tu non collezioni Niente Neanche sulla musica No Quindi non hai nulla conservato Non sono molto attaccato Alle cose materiali No Neanche dischi Cioè non è una roba Che dici Ho quel disco Che conservo Sai che no Pazzesco Sai che no Ma neanche il ragazzino Sì sì No Beh è una roba Credo caratteriale Allora Ti faccio un esempio Se a me piace un disco Certo lo voglio Lo voglio ascoltare Ma non mi interessa Che sia originale O che sia autografato Per dire no No Cioè Mi interessa solo Esclusivamente Di avere quel contenuto Accessibile in qualche modo Però di possederlo Di averlo lì In un'edizione speciale Cosa di così No Non l'ho mai capito Così che non capisco Il tifo Perché poi penso Anche cambiano sempre I giocatori Che cazzo tifi Sì Sì di base Diciamo che Se lo dici a uno Che tifa davvero Sembra che tu gli stia dicendo No 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 Capisco poi Lo capisco io Il limite mio Poi mi piace a tutti No è quando lo osservi da fuori Tipo per me ad esempio L'essere appassionato Magari di uno sport Come può essere il basket Ma nell'NBA Mi dà modo di vedere da fuori Nel senso che io non sono Però non mi fa intendere A me piace vedere Una bella partita Hai capito Mi piace C'è un giocatore Che gioca bene Cosa così Non riesco a pensare Chi sacrifica la propria vita No ma a parte quello Pensare Perché devo tifare Per una squadra Cioè Che vinca il più bravo Nel senso Non mi affeziono A una squadra Perché poi Allora Fosse magari appunto Uno sport individuale Già lo capisco di più No Perché tu Ti piace lo stile Di un tennista E gioca così lui O per esempio Tu puoi essere fan Di un calciatore Ma poi il calciatore Va di un'altra squadra Invece la gente è fan Non di un calciatore Ma di una squadra Non so perché Sono stati che Scusatemi No però in realtà Adesso è sempre di più E non credo sia un bene La gente è fan Del giocatore E non della squadra Però più comprensibile Secondo me Oggi sì Però si perde poi Il valore di quello Che è lo sport Quindi la squadra Quindi succede Che i giocatori Iniziano a diventare Più importanti della squadra Sì hai ragione E iniziano a esserci Un po' di sbilanciamenti Però di base Cosa ti ha passione Il cinema sicuramente Il cinema tantissimo Il cinema Sì sì Però anche là Non è che ho collezionismo Mi piace poter accedere Un film e vederli Sì sì Anche vederli a casa Soprattutto Guardo un sacco di Guarda Mi appassiona praticamente I videogiochi stessi Mi appassionano parecchio Però Ti parlavo proprio Di collezionismo Che è una step dopo È una cosa diversa Cioè Quando ero piccolo Non so Mi piaceva Kenshiro I fumetti Ma mai dal punto Di volere Il pupazzetto Oh sì Esatto Né di volere avere I fumetti Mi bastava leggerli Per me Quindi ero un fan Delle biblioteche Devi un libro E poi glielo lasciavi lì Tu leggi tanto? Non molto adesso Però storicamente Leggevo sì Sì E quella roba influenza Anche quello che tu Che tu vai a scrivere Tutto influenza I film La narrazione Io poi ci centrifugo Dentro tutto Ci metto dentro tutto Per cui Parlare con te Cerco di Prendere degli spazi Questa cosa Mette In soggezione Però È una figata E credo che faccia parte La figata Di quello che fai tu Cioè insomma Di riuscire a prendere cose A prendere cose In giro È bello Quando vuoi dire esattamente Delle cose Riesci a dirle È molto bello A me è l'impressione Come tu riesca A tradurre Dei sentimenti Con delle parole Cioè Tante volte Magari ascolti una canzone Dici cazzo quella roba La pensavo anch'io Ma non sapevo Metterla giù Dargli un nome Tanto meno in rima Nel senso Ti è mai capitato Che qualcuno ti dicessi Cosa ti dice la gente Quando ti incontra Allora È quella cosa Che dici tu La gente vuole un po' parlare Cioè a me Al calcolo Mi scrivono Tantissimo Anche nei direct Proprio Dei papiri Sì Un misto Tra la posta del cuore Gente che si Che si apre anche Molto Che attraversa brutti momenti Gente in galea Però è quasi sempre Un conflitto Introspettivo Su uscito quella roba E poi Ho anche un'altra cosa Che secondo me Fa tanto La rivalza Nel senso Appunto Ho attraversato una crisi Ma ne sono uscito Quindi un sacco di gente Vede anche La musica Come appunto Motivazionale Gli dà La forza Di attraversare Dei momenti brutti O di superare Delle sfide Ecco Secondo me Sono queste due cose Non è il fatto che Cioè arriva molto Che una persona Che ha fatto un lavoro Su se stesso E in qualche modo Si è affrancato Da una relazione Tremenda Capito Ecco Spesso la gente Non riesce a fare E' in questo Che sei Ispirazionale Nelle persone Perché Sei riuscito a fare Delle cose Che vorrebbero fare E' per questo Che insomma Qualche volta Hai sentito dire Di quanto è importante Anche condividere le cose Cioè parlarne In qualche modo Perché questa cosa aiuta Per me è importante Però è proprio La mia cifra stilistica Cioè proprio Quello che faccio io E quello E per me è importante Aiuta a me per primo Egoisticamente Ma in generale sì Perché comunque dire Anche se Anche se Se una persona E' molto introspettiva Così dire le cose Ad alta voce O comunque Tirarle fuori Anche con gli amici O chi va dallo psicologo O con le persone Con la compagna O robe così Comunque è catartico Cioè non è come pensarle Le cose Dirle ad alta voce Fa un altro effetto Quindi A me serve per me Quando lo faccio E in qualche modo Ovviamente E quanto è importante Secondo te Soffrire Per scrivere una canzone Non l'ho ancora capito bene Perché forse è un po' Un luogo comune Sta roba Non lo so Se è veramente importante Necessario Più che altro Però ti dirò Io un po' Sono convinto Che non Più che soffrire Cioè che comunque Un po' Che del sacrificio Per fare Per fare quello Che uno vuole fare Al meglio Si è richiesto E questo sacrificio Spesso è anche Proprio di vita privata Guardavo un altro giorno Un film Proprio visto che parliamo Di film Dove praticamente Si chiama Finale sorpresa Un film spagnolo A un certo punto C'è Penelope Cruz Che è questa Questa regista E sta parlando Con un'amica Di un'altra regista E prende dice La tipa si è sposata Ha fatto due figli Ormai Non può Non può più essere Provocativa Capito La sua musica Non può più essere audazio I suoi film Il suo cinema Ecco Un po' così E mantenere l'audacia Capito In quello che fai È difficile farlo Se sei molto Non so Anche dire certe verità Se sei sposato Se hai dei figli Boh Poi non lo so Potrei completamente Sbagliarmi Sta cosa Io penso un po' Che sia così Però non lo so È come i piloti Che si dice Che da quando poi Diventano padri Perdono un secondo Due secondi Perché hai più paura Esatto Una questione Veramente Non so Che altra parola Audacia Non so Come altro Sì perché poi vivi Vivi realmente Un'altra vita Quali sono quelle cose Che per te Sono delle costanti Nel senso che In qualche modo Ti aiutano a restare Con i piedi Tu non so Vivi ancora in Barona Il fatto di vivere Ancora lì O altre cose Sì ma non sto più Nelle catapolari No quello ok Ah però tu dici Non fa cambiare Non è la stessa cosa Non è Però hai delle costanti Delle robe Che lungo la strada Ti hanno fatto tenere I piedi per terra O in contatto Con la realtà Sì In contatto con la realtà Sì 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 A parte che ti ripeto Graduale Io il contatto Con la realtà Me l'hanno inculcato A calci Cioè quando avevo Quando lavoravo Quando cioè Anche questo Mi dicono spesso Che sono umile Ma è un'umiltà Anche lì Che me l'hanno ficcata A me e alla mia famiglia Per come siamo cresciuti Ci hanno sbattuto Fuori di casa Quando avevamo dieci anni Non avevamo il cesso Ho fatto dei lavori Di merda Non avevamo una lira Cioè diventi umile Per forza Non è un grande pregio Esatto La mia vita è sempre stata Qui più di per te Anche adesso Che le cose vanno Alla grande Io mi aspetto sempre peggio Sì Quello Anche questo tipo Di aspettativa Tra l'altro Tra le varie cose Che hai raccontato C'è stata anche una cosa Che ha colpito molto Qualche anno fa Sul tema del bipolarismo Eccetera Come funziona Cioè banalmente Un tema Una cosa di cui Spesso si parla Ma non si conosce Allora guarda Esatto È un argomento Veramente complicato E da una parte Sono contento Di aver aperto Il dibattito Il dibattito Dall'altra però Il rischio di semplificazioni Certo O di misunderstanding Siamo altissimo Io più che entrare nel merito di questa cosa Parlerai in generale Ecco Della caduta Del tabù Di questa cosa qua Che è la cosa più rilevante Mi accorgo che un sacco di gente Adesso ha meno problemi A dire Che ha dei problemi Sì E soprattutto Non so Mi pare di vedere anche Proprio statisticamente Che i ragazzetti O comunque le nuove generazioni Sono belle incasinate Cioè Secondo me Ecco Sicuramente È stato importante Sdoganare Sia attraverso i dischi Sia attraverso queste interviste Il fatto che non sia un problema Anzi No adesso quasi tutti Insomma Sì Anche il fatto di andare a parlare con qualcuno È una roba Esatto Normalizzata Però calcola che appunto È venuto fuori questa roba Un po' nel 2019 Proprio con persona Quindi Sai in quattro anni Sono cambiate tante cose Comunque anche su quello Sì c'è tanta gente che mi scrive Beh tu hai iniziato a parlare Comunque anche di questa roba Prima che fosse Passare in termini Un trend Adesso qualcuno l'ha cavalcato È quello che volevo dirti Cioè Esatto Cioè Io Nell'aprirmi A quel racconto In persona Un po' Da una parte Corso quel rischio Perché Era lì Lì Poi soprattutto da un rapper Che è visto sempre come Duro Esatto Granitico Non si scherza niente Esatto Però appunto Le cose sono molto cambiate Adesso è nel dibattito Anche la La questione delle sovvenzioni statali Che poi sono sempre Che poi sono sempre poco Però qualcosa è cambiato Insomma Nella musica Chi sono i tuoi amici? Cioè ci sono i tuoi amici? Ma amici Ti direi gue Amico Jake Insomma quelli con cui sono cresciuto Che erano anche amici Prima di fare musica Per il resto Ho tante persone A cui voglio bene Che mi sono simpatiche E roba così Però L'amicizia è un'altra cosa E poi siamo tutti concorrenti Guarda Non farti ingannare Da questa pace Non è vero La pace va bene per gli affari Come dicono In Gomorra Quindi serve per tenere Un equilibrio nel sistema Beh però Quelli che hai citato Ovviamente hanno contribuito Cioè come hanno dato L'incontro con loro? Ma no Poi c'è magari Molto rispetto Ecco Sempre una competizione sana Arrabia così Però Non parlerei di amici Chiaro Però loro quando Cioè Sono anche loro Che ti hanno aiutato A venire fuori Come Marra All'inizio Ah tu parli di Dogo? Sì sì Gue Beh sì Sì Abbiamo costruito Una cosa insieme Secondo me Più corretto dirlo Però sì Sicuramente Loro erano un gruppo Che già funzionava Avevano Un gruppo culto E tu hai sempre pensato Di viaggiare da solo? E poi anche Al di là di Di quello Proprio A livello di mentori Anche per entrare nel genere Per capirlo meglio Chiaro Ed è bello vedere Io ho sempre viaggiato da solo Da lì Sì sì Cioè è sempre stata La tua La tua filosofia Sì E tu tra l'altro Tronando il discorso Dei commenti Tu vedi anche Quando gli altri Ti dicono No dai Rifai santeria Con Gue Oppure fai Cioè sono cose Che osservi Che vedi anche Sì 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 Ce n'è una Cioè Ci sono vari tormentoni Sì 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 Per loro c'è quello Di tornare insieme Per te c'è quello Di rifare qualcosa Con Gue Con Gue Esatto Alla Marrageddon Sarete sul palco Insieme Insomma Con queste persone I rapporti continuano Sì 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 E di amicizia E di amicizia Avere Quando tu invece fai Siamo però stati in vacanza Anche Sì Marrakesh a Marrakesh Mi è rimasta decisamente impressa Ma la Quando invece fai Una rima O un qualcosa Nel tuo pezzo Tu pensi mai Alla responsabilità Di quella cosa O la conseguenza Di quello che può succedere Beh oggi come oggi Non puoi non pensarci Perché Perché Sono tutti là Pronti col fucile Puntato Bisogna cercare Di pensarci Il meno possibile Quando per esempio Ho scritto cosplayer Alla fine c'è quel discorso Controverso Sul fatto che Effettivamente Oggi come oggi C'è questa Presunta libertà Di Sessuale E E E varie altre Rivendicazioni Da parte di minoranze Ma poi si ignora Sempre che I soldi Sono il vero Fattore discriminante No? Ecco Scrivendo quella Quella roba La pensavo Cazzo Però se dico Sta roba Poi si incazzano Quelli Si incazzano Quelli Però se cominci A pensare così E' meglio Che smetti Di fare Questo lavoro Cazzo Si Cioè a meno che non vuoi appunto Fare l'intrattenitore Non disturbare nessuno Che ci sta Una via percorribile Anzi molto percorsa Però ti ripeto Sono due lavori diversi E in che cosa secondo te Lungo questo percorso Ti sei un po' più Smorzato Secondo te Che prima eri molto più rigido Molto O qualcosa che In cui ti senti cresciuto Ma io non mi sento smorzato Anzi mi sento più coraggioso Sì Non smorzato Era il termine sbagliato Però un po' più Come dire In cui tu ti senti Di non fare più degli errori Che magari facevi da Ma guarda Gli errori banalmente Erano quelli Invece di adeguarmi Secondo me Paradossalmente Noi tutti E parlo un po' Della vecchia guardia Abbiamo dovuto Comunque accettare Anche dei compromessi Che secondo me Adesso puoi accettare Di meno Cioè Anche per far accettare Questa musica All'industria Per avere Dei cazzo di singolo Che passassero un po' In radio Abbiamo dovuto Cercare di fare Di andare incontro Alla musica italiana In una maniera Che secondo me Oggi È meno necessaria Quindi Paradossalmente Secondo me La mia carriera È più senza compromessi Adesso Che prima Perché Un po' perché Maturando Adesso faccio proprio Una cosa completamente mia Secondo me Puoi anche permetterti Di fare una cosa tua Esatto Però è una cosa Che ti sei guadagnato Certo E quindi È meno clichettosa Secondo me La mia musica Rispetto come fosse Prima Un po' Per tutti E un po' Perché appunto L'hip hop Ecco un po' È un diritto Che mi sono guadagnato Io personalmente È un po' È una roba Che si è guadagnato Il genere Quello di non dover Per forza fare il pezzo Con la cantante italiana È vero È vero È vero È vero È vero Della generazione Dei ragazzi nuovi C'è qualcosa Che Che gli invidi O qualcosa invece In cui tu sei contento Che per la tua generazione Non c'è stato Beh Gli invidio Gli invidio Questa cosa Che per noi Era completamente impensabile In cui non avrei mai creduto Questa commistione Con la musica estera Cioè Il fatto che oggi Sia effettivamente possibile Andare a suonare In altri paesi Mischiarsi Fare musica insieme A me non è una roba Che fa completamente volare Non l'ho mai inseguita Questa roba Anche adesso Non è che mi attira tanto È bello per loro Ed è bello che Probabilmente Getta l'humus Per un futuro Fatto di collaborazioni Più autentiche Perché adesso Spesso sono robe Un po' Attaccate con lo scotch Però È partita una cosa Che prima non era completamente È un primo passo È un primo grande passo E chissà Questo potrebbe davvero Cambiare le cose E questa è una cosa Che non c'era E che un po' Invidia loro E tu cosa ascolti Di straniero Cioè Ma sai che Ne parlo spesso Anche con altri artisti Ultimamente ascolto Un sacco di musica Nel passato Non ho trovato Grandischi Rap Proprio negli ultimissimi periodi Tutta quella Sono un po' In crisi Anche loro Secondo me Però tutta quella Wave fatta di hype Con non so Tipo Drill No Anche vari personaggi Ma mancano cinque anni Ah certo Manca da cinque anni Cioè da un po' Che non escono dischi Veramente rilevanti Forse è riuscito Kendrick Kendrick Sì Drake Però secondo me C'è un po' Di stanca Anche nell'hip hop americano Forse è più a livello Di suono Nel trovare il passo Dopo la trap No però poi Sembra che di qua Tante volte Molti ragazzi È più bello il rap europeo Secondo me Tipo il francese Sì sì Ma in generale Tutta la scena europea La sento più viva Ma noi su questa cosa Secondo te Potremmo mai essere innovatori Cioè vedo che adesso Tutti i ragazzi Guardano la Francia E succede con un delay Questa è una bella domanda E una bella sfida Dovrebbe essere Il prossimo step Della maturità italiana È di proporre Un hip hop Veramente italiano Ok Mentre invece Come dici tu In realtà Noi siamo Abbastanza in scia Siamo bravi a farlo Perché abbiamo dei produttori Che non hanno niente Da invidiare Però ecco Nell'originalità Della formula Non ci siamo Niente No Riproponiamo delle cose Che sono andate forti all'estero Magari anche fatte meglio Ma con un ritardo Peraltro Anche Importante Sfera secondo me È italiano Nel suo modo Di fare trap Perché comunque Ha una cosa melodica Ha un approccio Alla melodia Che a differenza Di trapper americani Che sono un po' più Jamaican Come impostazione Del canto Invece quello di Sfera È un po' più italiano Ecco quella Forse è una cosa È un unicum Tra l'altro A proposito Della nuova generazione La Cioè Tu sei tra quei Tra quei pochi artisti Che sono diventati grandi Ma che comunque Dai ragazzini di oggi Vengono visti In un certo modo Non come quelli Ah no Ok E te lo riconoscono tutti C'è qualcuno Che tu hai A cui hai dato una mano A cui Cioè che proprio Ti hai detto Questo qua secondo me Spacca E Porca puttana Ce ne sono un po' Perché anche semplicemente Tirare in mezzo Nella tua musica È un aiuto incredibile E qualcuno di cui Sei particolarmente Orgoglioso Tra questi Guarda Ho più o meno Avuto a che fare Con tutti Sì Con molti proprio Nel lancio Poi non so se tu lo sai Ma io avevo un'etichetta Certo Che comunque ha prodotto Sfere Basta L'ho praticamente Beccato io Sul web Achille Lauro Cioè tu avevi visto Tu qualcosa Hai detto Sì L'ho chiamato per primo E ha fatto le prime cose Con me Con l'etichetta Achille Lauro Fred De Palma Non lo so Ho avuto Ecco La mia carriera Si è intersecata Con quella Di tanti E che effetto faccio Quando poi Fai quel passaggio Che è molto Anche americano Quello di Ok Se sono forte Faccio anch'io Una mia etichetta Faccio anch'io Una cosa Per creare Un sistema Che effetto Ti ha fatto In quel momento Ma è una cosa Che Non lo so Come il libro Di Wallace Una cosa bellissima Che non le farei mai più Però è stata fatta Sì Perché poi Guarda Ti dico Ti scontri Allora Innanzitutto è difficile Che un artista Anche in America No Poi queste etichette Degli artisti Durano il tempo Che trovano Il tempo che durano Boh E molto spesso Poi non sei Completamente Appagato Qualche artista Ti riconosce Quello che hai fatto Sia economicamente Anche a livello umano Però la maggior parte Delle volte Resti parecchio deluso Quindi insomma Ti chiedo Due cose Prima di salutarti Che devi andare A montare le cose Per Maraghe Fisicamente Perché sei un rapper operaio Scherzi a parte Però Lungo Lungo la strada Hai parlato Parli tanto di amore Anche nelle tue canzoni Sei sempre stato Credo abbastanza riservato Su questa cosa Poi ti è successa Una cosa Che è diventata Una storia Nazional popolare Come in alcuni casi Come è stato vivere Quella cosa Sotto gli occhi di tutti Non so come dire Allora Vorrei fare anche un appello Ai rapper italiani Basta Queste canzoni d'amore Non se ne può più Non se ne può più Cioè io ne ho fatte Anch'io un paio Però a parte che i ragazzi Cioè erano sentite Nel senso Ti succede una cosa La racconti Bella lì Ma io raga Ecco il pop italiano È diventato esattamente Quello che noi critichiamo Nel pop Cioè questi testi d'amore Che è Che diventano Proprio Puro autoraggio Di gente che Parla di storie finite Che non sono mai successe Romanzi Che è felicemente fidanzata Che parla di cose Ho capito Però l'hip hop Cazzo dovresti partire un po' Cioè Era quello che ci distingueva Dal pop italiano Era che appunto Non usciva la canzone Di dicevi Mi manchi come il mare Cioè Di solito La costante Nei testi pop Che ci devi essere Un po' passato dentro No? Sia che tu parli di strada Ecco Per me Finché tu ci sei passato dentro Qualcosa E la racconti Ok Ma Tutte queste canzoni Di pop Innamorato L'amore L'amore Cioè Boh Un po' E tu anche le robe più pesanti Le hai raccontate Perché ci sei passato dentro Sì però non è mai un amore smielato Fatto di Ma il tuo raccontato era tossico Se non ricordo male Quello lì in particolare sì Ho fatto anche canzoni un po' più Però Dove comunque Non so C'è una dose di realismo Dentro E di 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 cosa vissuta Certo Ecco adesso Il nuovo trend Dei rapper italiani Dopo Imitare La gangsta life E parlare Di cose In cui non sono mai passati attraverso Adesso c'è questa cosa Di farlo con l'amore Per cui tutti fanno questi pezzi d'amore Il singolo Per eccellenza Hip hop Pezza d'amore Basta E quindi non funziona Poi una rottura di coglioni Sì beh Sono dei pecoroni I rapper italiani Seguono Seguono Con del ritardo E E vivere una storia D'amore Sotto gli occhi di tutti Che cosa Comporta Un bel cazzo Anche quello Anche quella è una bella cosa Che non farò mai più Perché quello Perché poi anche lì Non ti sganci mai più Ancora c'è gente che scrive Sono passati due anni Da quando è finita La mia ultima storia C'è ancora Immagino anche a lei Cioè Non se ne Cioè È stata anche una storia Che ha colpito tantissimo L'immaginario Sì Italiano Quindi lo capisco E tutto Però ecco Non fa per me Tutto questo tantamno diatico Cioè il fatto che si parli Continuamente Di cosa fa uno Cosa fa l'altro Cioè che ci siano La gente che è fantastica A me è un po' successo per caso C'è la gente che è fantastica C'è gente che è fantastica E poi anche che esige Che vuole Che critica Che rompe Capisci Cioè diventa veramente Una storia In cui della gente Dice la sua Sì sì Un po' Cresi Diventa un po' Diventa un po' complicato Vabbè Per fortuna c'è la musica Quella è Quella è reale E quello che Che hai raccontato È È super realista Però che il collezionismo Però qualche incontro Durante questo Questo percorso L'avrai fatto Che ti è rimasto Particolarmente dentro Non dico da farti Autografare una maglia Però Ti capito di ritrovarti In un contesto Dici ma io cazzo Sono qui Sono partito dalla Barona Ma quello ci penso Tu sempre 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 Cioè ogni tanto Mi fermo Porca puttana Che cazzo è successo Incredibile Tu dici un incontro Con una Un musicale Oppure Siete mai capitati Beh sì Quello che ormai Ho raccontato 150 miliardi di volte Che è Vasco Non lo riracconterò Quello è stato Effettivo No 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 Era successo Nel 2015 Ero a Los Angeles E per varie Combinazioni Sono finito A casa di Vasco E siamo stati una sera A parlare insieme Quello è stato Effettivo Beh cazzo sì E quello stesso anno Ero a mixare Status Con Killhoffer Che è un Un engineer Di musica Che ha mixato Watch the throne Dischi di cani Ecco Quello è stato Effettivamente Forse la roba più wow Fulgorante Fulgorante Sì Però Anche lì Non sono uno Che L'hai già capito L'ho capito Sì Però ti Super ringrazio Per questa chiacchierata Grazie a te E non vedo l'ora Del marageddon Perché insomma Ripetiamo Miglior Non so se sono questi premi Però è il miglior nome Grazie Spero anche che sia Il miglior festival Questo Lo sarà E sicuramente Lo vivremo Lo vivremo insieme Ma come funzionerà Tu sali tipo Solo alla fine No vabbè C'è il pezzo con Gue C'è Ma con Gue c'è proprio un set C'è il momento Però guarda Non ti svelo tanto Alla fine c'è un concertone mio Poi Cosa succederà durante Però si sa se tu compare Anche nel corso della giornata Succederanno altre cose Altre le svelerete più avanti Non ci resta che aspettare Esatto E viverlo Grazie Marrakesh Davvero Proprio lui È passato dal basement Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti